campionato calcio a 7 open 16 2 tredicesima giornata si affrontano al baggio 2 dsi 10 punti e harry kane ser milano 9 punti difeso poi servito asfaltato palla dentro la possibilità la conclusione miracola di travella numero 27 ma metà in porta a diviazione ancora bravissimo travella con questa palla al games con me da subito la conclusione veda e trova il gol l'angolino vincente 1 0 anche la sblocca me da parte festa pallone toccato in gol 11 il pareggio di dsi numero 13 sfrattato su borgia con la borgia la chance alla conclusione e para lo foco con abete per lì davanti a conclusione a lato sombrero con attuci può calciare il diagonale tra più vincente e c'è il 2 a 1 ancora sfrattato finisce il match con la vittoria dunque 2 a 1 in favore di dsi con la doppiata decisiva di sfrattato allora abbiamo il bomber di questa sera sfrattato la doppiata decisiva qua abbiamo il dirigente carboni per dsi niente allora insomma è messo due volte la zampa due volte in maniera decisiva ribaltato il risultato direi tre punti meritati tre punti importanti sì oggi bisognava vincerla così probabilmente facevano molta densità e quindi è andata bene siamo riusciti a tenere poi nel finale soddisfatti di questo campionato si poteva fare di meglio ma noi abbiamo avuto una pausa a metà del girone ma adesso stiamo ricominciando a giocare a calcio ai ragazzi che piedi buoni ci sono quindi siamo fiduciosi di scalare ancora la classifica oggi insomma ci avete messo anche il cuore vi so che avevate in svantaggio avete combattuto fino alla fine non vi siete mai contattati del pareggio questa è una sensazione beh no cerchiamo sempre di giocare la partita il nostro spirito molte volte abbiamo preso qualche gol di troppo per questo però non ci piace giocare per il pareggio insomma bene grazie complimenti alla prossima